Consigliere di Città Prento, cerchiamo di ragionare, perché negli interventi dei consiglieri, laddove abbiamo la fortuna di avere i clienti del senso, e essendo questo un atto che quel voto, come ben diceva il senso di Castillo, tutto una serie di dettori, è giusto, consigliere di Città Prento, visto che quel voto è tutto una serie di dettori, è giusto, abbiamo pensato e abbiamo visto produttivo che degli assessori che sono presenti altamente a rispondere lo facciano in questa dettata. Ciò non toglie che dobbiamo darci un'organizzazione, come io non ho consentito all'assessore Prento, puramente ribadito evidentemente alle osservazioni del Consigliere di Città Prento. Io chiedo a tutti di darci un ordine, che è quello di intervenire sui casi e poi, per esempio, se non c'è caso qualcuno, interpellare a chiarimento di quelle questioni che consigliere, sotto il voto di quest'anno. Detto questo servizio, il valore, la dana, tra l'involente mia, 38 persone che mi avevano veramente, voglio ribadire tutto, ha detto di intervenire. Ora aspettiamo l'intervento che penso sia per questioni personale in questo momento. Quindi ha la priorità del Consigliere Massimo di oggi che può intervenire per un massimo di 5 minuti, dopo di che intervento del Consigliere Mosca. Consigliere Mosca, 5 minuti. Massimo di oggi. No, io voglio subito comprare il capo che io non ho mai sentito a leggere, non è stato strumentalizzato assolutamente nulla. La visione degli assessori, io ritengo, e me lo devi far passare con l'assessore Casino, che io capisco che bisogna dire al sindaco che non si muove la prima gente, perché sono un solo santo del panico, l'assessore, il volto, il Consiglio, un lavoro, un piano, almeno se ne andasse il sindaco a fare anche giustamente sì, perché guarda, in questa città, il problema di scusa, l'assessore è una grande scusa, che spagna a chi non ritenerla. Questo è una cosa che, perché se io metto in funzione l'assessore Casino, beh, ti devo dare la giusta sua, come devo dire, la giusta sua capacità. non posso tenere un errore un'esame. Io questo lo capisco, già prego. E come io domani mattina vincevo, vincevo l'assessore, facevo l'onorevole, non c'è l'assessore. Eh, va la batteria. è una macchina. E quindi, per questo, per questo, per questo, è l'assessore di questa ministrazione. Allora, tornando alla, che ciò si può prendere. Guardate, io non ho voluto interdire dall'inizio. Perché, iniziamo a parlare di un intervista dove la testazione dei procattivi, che è la domanda, che ha dirige, perché è questo che si può prendere. Dove, quindi, dove, questa ministrazione, che mi diceva, aspetterà, per noi, quando succederà la porta dei porti, ci sono divanti, a ci sarà il centro, questa ministrazione, per come è aspetterato 800.000 euro. 800.000 euro. Perché, dove ovviamente, non è legittime, che la corte dei conti, che ovviamente, si è competente, che sarà ovviamente giusto e conseguenza. Quindi, abbiamo parlato di un intervista dove l'attestazione viene fatta. La dica è che, non, non dovremmo stare a che voi. Per un fatto di, legittimità, no, di legalità, obbedimento, consapevolezza che suprarvi di dà. È un fatto di legittimità, è un fatto di legittimità, è un fatto di di legittimità. Ma debiamo usare il resto, non lo so, non lo so, perché le si ammette, questa ministrazione, che è partita madre, e noi come se ne, non comprende, non ci ammette, non ci ammette, non ci ammette, non ci ammette, non ci ammette. ma come dire quando qualcuno si chiama il senso? Tu sei qualcuno che hai un polpone finanziario per questa città e ho detto quelli che saranno delle finanze il coordinatore di tutti gli assessori quando andrai a fare il bilancio ti accorgerai che dovrai coordinare tutti quanti qui dovrai avere la mamma di tutta su un assessore di città Grazie consiglio di oggi, grazie